Col petto è bruciato, magari insultate, ma che più scure, tarararara, senza lunciata, tarararara, colpini d'India del stile legati, ad esempio a me piace vedere, la donna nel nero, nel lutto di sempre, sulla sua soglia, tarararara, tu per essere, tarararara, che aspetta il marito che torna alle gambe, ma come fai, lo so. Se mai qualcuno capirà, tararararara, sarà senza altro un altro come me. Un'altra casa.